musica 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 bello a tutti ragazzi bentornati oggi siamo al quarantesimo episodio del rock to victory ovviamente si entra nella parte già incominciata beh questa mappa mi ha sempre fatto schifo anche su mv2 musica che cazzo dai musica outrider eliminata musica 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 Succhia Coglione Dio porco Questa è l'ultima volta che faccio sta mappa Coglione Zucchia Cambiamo un po' la sensibilità Chi è che utilizza l'anciapuffi? Eh vabbè Questo ha fatto pre-fire No Non ho fatto pre-fire Mi sembrava pre-fire quello eh Centro confermato Oh pigliatelo in culo Bersaglio localizzato Che ca... Non ho capito niente Non ho capito niente Vieni qua bastardo Vabbè vabbè Uccisione confermata Ai si è bloccato il tipo Che cazzo sei? Che cazzo è? Assisto Cerberus nemico in arrivo Occhio al cerberus stile Assist di nuovo Merda al cerberus Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che schiave Contro il cerbero Su fucile a pompa Cazzo Dove c'è Ovvio che si perde Vedete Dove cazzo è uscito? Asi 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 Dei mori Sì, sì, sì. 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 Sì.